Per ora è soltanto una proposta di adesione allo SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo, ma fa già discutere la delibera della giunta comunale di Sapri di unirsi a Santa Marina nell'accoglienza a 5 famiglie di rifugiati extracomunitari per un totale massimo di 20 persone per il triennio 2017-2019. Nel documento si legge che l'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Gentile nell'aderire al progetto attivato nel 2014 da Santa Marina, che, si legge nella delibera, ha raggiunto un elevato livello di qualità delle proposte di accoglienza con numerosi esempi di integrazione socio-culturale, si specifica che lo stesso comune di Sapri non metterà a disposizione alcun immobile di sua proprietà per destinarlo all'accoglienza, quindi saranno i privati di Sapri, su indicazione di Santa Marina, a doversene occupare. Stiamo diventando la succursale di Santa Marina, tuona il gruppo di minoranza in Consiglio Comunale Sapri Democratica. Il comune capofila dei servizi sociali dell'ambito S9, prosegue l'opposizione, si dichiara di fatto incapace di gestire un progetto così importante e delega un altro comune a farlo ed a scegliere il partner privato per utilizzare circa un milione e mezzo di euro in tre anni. Forse questo è il contentino, conclude Sapri Democratica, che dobbiamo pagare per il silenzio del comune di Santa Marina sulle scelte del piano di zona. Nel Golfo di Policastro anche Vibonati ha aderito allo Sprar. In questo caso si attende l'arrivo di una decina di migranti che dovrebbero trovare alloggio nell'ex convento di San Francesco di Paola.